Nell'anno del settantesimo di fondazione del Panathlon Club di Sondrio, i premi e gli sportivi si caratterizzano per la grande varietà delle discipline degli atleti candidati, a cui i riconoscimenti saranno consegnati ufficialmente il prossimo aprile. Il premio Panathlon negli anni ha dimostrato, gratificandole, quelle che sono le eccellenze sportive dello sport valtellinese. Una terra che sicuramente è fatta di numeri piccoli, ma che nello sport ha sempre avuto tanto da dire e ha sempre avuto eccellenze riconosciute a livello mondiale. Quest'anno siamo riusciti finalmente ad assegnare il premio Fair Play, che come sapete è un premio che viene assegnato purtroppo molto raramente. È stato assegnato a Thomas Bormolini, atleta del Bliathlon, che ha accettato da parte dell'Ibu, cioè l'associazione che riunisce tutti i Bliathleti, l'incarico per portare avanti quello che è il progetto interno dell'associazione circa le pari opportunità nello sport del Bliathlon tra uomini e donne. Al di là di aver ricevuto l'incarico, è evidente come sia un tema assolutamente caldo, importante, purtroppo disatteso nei numeri e nei riscontri su tante discipline, e che invece il Bliathlon ha visto proprio una luce, un focus molto importante. È un gruppo di 6-7 persone, uomini e donne, che si occupa, che in questa disciplina i diritti e i doveri chiaramente siano uguali tra uomini e donne. I premiati rispecchiano a livello territoriale veramente un po' tutta la provincia di Sondrio e anche a livello di discipline c'è stata particolare varietà. Per quello che riguarda l'atleta studente abbiamo premiato Valentina Corvi relativamente ai risultati conseguiti nel ciclocross, è veramente un talento. Per riguardo all'atleta siamo andati nel canottaggio e abbiamo premiato Leonardo Tedoldi di Samolaco. Quanto al preparatore tecnico sportivo è un po' una conferma, chiaramente la Valtellina eccelle soprattutto in quelli che sono gli sport invernali, e in questo caso il premio è andato a Ivan Murada. Tantissimi anni da allenatore, da atleta, da tuttofare nell'associazione della polisportiva al Bosaggia. Se tanti campioni ci sono stati, lui stesso è testimonianza diretta chiaramente, ma se ci sono stati, ci sono e ci saranno, si deve proprio anche al lavoro incessante e assolutamente di livello che Ivan ha portato avanti negli anni. E quanto al benemerito dello sport abbiamo attribuito il premio Aldo Simonelli del rugby di Sondalo, proprio perché il rugby di Sondalo, che ha una sua storia, una sua valenza positiva in campo non solo provinciale, deve proprio tantissimo della sua attività all'impegno diretto di Aldo e quindi sembrava doveroso attribuirgli un riconoscimento.